Oh, eccoci Eccoci qua, ben ritrovati ancora insieme Per la rubrica dei ricordi di Playstation 1 Che bello Ritrovo Ritrovo veramente un bel videogame Ritrovo veramente un bel gioco Che era davvero tra i miei preferiti Iconica la intro con Ayaki, con Paul Con Lowe, bellissimo Sto parlando di Tekken, non lo sto neanche a dire In particolare, ovviamente Queste scene sono tratte da Tekken 3 Perché ho scelto tra i vari capitoli di Tekken Ho scelto il 3 perché comunque era quello in assoluto più completo Avrei potuto anche citare Tekken 2 Che già era un upgrade molto importante Già era veramente una grande innovazione rispetto al Tekken 1 Che fu già esplosivo per il tempo Al pari di Gran Turismo 1 Di cui vi ho parlato qualche live fa Però ho scelto Tekken 3 Proprio perché appunto Dava la possibilità Secondo me Cioè, come dire Aveva l'equilibrio maggiore Stiamo parlando qua 94, 95, 96, 98 Quindi più o meno L'età è quella Siamo sempre In quegli anni di Di grande rivoluzione Per Playstation Qua per esempio Nelle long play Viene scelto Shaoyu Viene scelta, scusate Shaoyu Grande personaggione Velocissima Adoro Adorissimo Tutto E Soprattutto Era bello Di Tekken Nella Assoluta E totale Libertà Che Che ti veniva data Nel senso che Davvero Per la prima volta C'era realmente Un Un mondo 3D Che è Che Che veniva In qualche maniera In In tuo In Come dire Al tuo Al tuo comando Ecco Ma era un Un 3D Vero Era un 3D Reale Era un 3D Importante D'accordo Lo do sempre Per assodato Parliamo sempre Di un 3D Che comunque Quello di una Playstation 1 Cioè Vedere Gli ultimi capitoli Di Tekken Rispetto a Come dire Rispetto a A Tekken 3 In questo caso Dico Logicamente Siamo su mondi Completamente Opposti Però dai Era Era bellissimo Io Adoravo Perché Tra le altre cose Tra i tre capitoli Tra i tre capitoli Tra i tre capitoli Di Di Tekken Credo che Proprio il Il terzo Fosse Quello Secondo me In assoluto Più Completo E E ne sono convinto E lo dico Proprio perché Offriva Al di là Della semplice Modalità Arcade Al di là Della semplice Modalità Versus E quindi Giocatore A Contro giocatore B C'era comunque Anche quella Quella stupenda Modalità Storia Quella modalità Quest Chiamatela come Volete Che Vabbè Per quanto Potesse essere Comunque Diciamo Così Quella che era Perché comunque Ricordiamo che Di base Tekken Era un Videogioco Guardate che Per il periodo Fece Fece davvero Molto parlare di sé Fece davvero Molto Molto Scalpore E Poi va bene Tutti I vari Personaggi Nascosti I boss Innanzitutto Che si Che potevi prendere Completando La singola modalità Arcade Con i vari Personaggi Ma Poi La modalità Per esempio Il Una che adoravo Era la Il Il gioco Sulla Spiaggia Con il Pallone Da spiaggia Che colpito Andava a colpire L'avversario Insomma Poi va bene Tutti i personaggi Nascosti Bosco Novich Gun Roger Alex Vedete qua addirittura Abbiamo Panda Perché Ricordiamoci Che C'era sia Kuma Che era L'orso Che Panda Quindi che poi alla fine era Lo stesso personaggio Con Con colorazioni diverse Che un po' era Quello che Su un Tekken 2 Era Devil E Angel Quindi Avevano le stesse Mosse Che poi a sua volta Devil Era la versione demoniaca Di Kazuya Figlio di Ayaki Perché poi vedete C'è proprio Questo bestia Si è fatto qua Intanto Sconfiggere da Panda Perché ricorderete Vedete Era bello anche questo C'era proprio una storia Dietro Tutto Il King Of Iron First Tournament Quindi Chi avrebbe Vinto Il Il Torneo Del Pugno di Ferro E quindi C'era proprio Questa storia Questa epopea Della famiglia Mishima Con Iaki Con Kazuya Che poi ebbe Un figlio Che era Jin Kazama Jin Se non erro Ebbe Un La figlia di Jin Era Jun Non mi ricordo neanche più Come Come si era evoluta Tutta Tutta la situazione Però Dico Al netto di questo Questa si è fatta di nuovo Sconfiggere Ah ecco Gun Jack Vedete Per esempio Gun Jack Su Tekken 2 C'era Jack E Plutotype Jack Qua invece Era Gun Jack Insomma Veramente Io Ho adorato Questo gioco L'ho adorato Perché Mi 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 regalava Veramente Sensazioni E E Veramente Delle Delle belle Soddisfazioni Così come Me le Me le regala Il fatto Di Averci Giocato Qualche Tempo Fa Con 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 Un mio amico Con il mio vicino Tra l'altro Che pure qui su Su Che su Twitch Andatela a seguire Do it your web Che Mi ha fatto piacere Scoprire Che ancora Ricordavo Tutte Le combo Le ricordavo a memoria Questo devo dire Che è stato Anche Una grande Furbizia Da parte Di Namco Nel Mantenere Durante Il corso Del tempo Inalterata Questa Così Questa Questa Tipologia Di comandi Nel senso Che Le combo Che funzionavano Per dire Con King Facciamo finta Su Tekken 1 Ancora Te le ritrovi Su Non lo so Sulle versioni Più recenti Di Tekken E tutto sommato Funzionano Quindi questa Veramente L'ho trovata Una grande Furbizia Ma A parte Averla trovata Una grande Furbizia Ho Ho apprezzato Il fatto Che un Videoplayer Così Mediamente Bravino O comunque Che abbia Una certa Memoria O Che sia Particolarmente Appassionato Può sfruttare Questa skill Del ricordare Le combo Per Così Per comunque Fare Bella figura E sconfiggere Chiunque gli capiti A tiro Il boss Finale Di E di Tekken 2 Era Kazooia Che poi Diveniva Devil Kazooia Quindi Devil Angel Su Tekken 3 Veniva proposta La medesima Dinamica Con Il boss Finale Che c'era Prima Iaki Poi Iaki Con Ogre Una volta Che Poi si andava A A sconfiggere Ogre Che era Questo Questo personaggione Verde Che io adoravo Questo Spettacolare Il personaggione Verde Dotato Di Con lo scudo Quindi Probabilmente Di E di Ispirazione E di ispirazione Prettamente Romana Quindi Diciamo E' chiaro Che c'è una Precisa Così Una precisa Un preciso Riferimento Che poi Una volta Che veniva Sconfitto Andava A Prendere E Iaki Lo Trasformava E Diventava Devil Ogre Che Ripeto a dire E' Né più Né meno La stessa Cosa Che Che In qualche Maniera Fa Succedeva Su Tekken 2 Mentre Invece Ricordo Che su Tekken 1 Il boss Finale Era Se non ero Direttamente Iaki Per me Ripeto Tekken E' stato Tra i In assoluto Tra i Videogame Comunque Tra i Giochi Che Mi hanno Dato La La soddisfazione Maggiore Poi va bene C'erano I finali In In computer Grafica Sì Perché In questo caso Stiamo vedendo Il L'RVM Finale Di Link Xiao Yu Perché Nella storia Mi pare di Ricordare Che Iaki Aveva promesso A Xiao Yu Qualora Avesse Vinto Il torneo Di Darle Il suo Il suo Parco Divertimenti Personale Soltanto Che Ovviamente Iaki Da Burlone Gli Propone Il Anziché Il parco Di divertimenti Di Ling Xiao Yu Quello Proprio Di Iaki Ridendo Sulla cosa Ma Evidentemente Xiao Yu Non è molto Non è molto D'accordo Sulla cosa E quindi L'opesta Di Legnate Stiamo vedendo Adesso Per esempio Il 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 Tournament Quindi La modalità Arcade Con Yoshimitsu Un'altra Cosa Abbastanza Importante Quindi Fatta Veramente Bene Di Dura Meglio Rispetto A Alle Precedenti Versioni Era Il Fatto Che I Personaggi Fossero Molto Equilibrati Quindi Uno Yoshimitsu Che Comunque Andava A Combattere Con Una Spada Quindi Comunque Era Vantaggiato Perché Io ricordo Che Yoshimitsu Aveva Delle Mosse Come Quella Che Permetteva Di Trafiggere Direttamente Con La Spada Che Potevano Uccidere L'avversario Anche Immediatamente Per Questo Yoshimitsu Aveva Anche La La Mossa Dell'Arakiri Quindi Si Trafiggeva Lui E Trafiggeva L'avversario Ma Questa Era Molto Pericolosa Perché Se Non Beccavi L'avversario Ti Ammazzavi Da Solo Però Dicevo Tutto Molto Equilibrato Quindi D'accordo Aveva La Spada Era Più Forte Ma Era Più Lento La Stessa Cosa Per E Di Gun Jack Molta Forza Bruta Ma Più Lento Quindi Tu Avevi La Possibilità Di Scegliere O Un Personaggio Molto Forte Ma Lento Quindi Comunque Metti Che Combattevi Contro Le Wulong Contro Warang Che Erano Velocissimi Contro Low Per E Erano Fulminei Potevi Avere Delle Difficoltà Oppure Potevi Combattere Con personaggi Molto Veloci Quindi Fare Leva Su Quello Per 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 Il personaggio Di Loh Chiaramente Ispirato A Al Famoso Al Famoso Come si dice Non mi viene il termine Lottatore Giapponese Che è talmente famoso Che in questo momento Non mi viene Come si chiama A Bruce Lee Ecco Non mi veniva Cazzarola Non mi veniva A Bruce Lee Era molto veloce Aveva Una mossa Che era proprio quella del pugno di ferro Che tra l'altro Aveva anche Paul In cui Caricava il pugno E poi Lo schiantava contro L'avversario Ovviamente Anche in questo caso Mossa Fortissima Ma che richiedeva Un Un attimino Insomma Di carica Quindi L'avversario Poteva anche Approfittarne Ecco Stavo guardando La presa Che ha fatto Yoshimitsu Su Nina E mi stavo Mi stavo rendendo conto Di una cosa Che non ho citato Dal momento Che Tekken 3 Ancora meglio Del 2 Perché nel 2 Non si poteva fare E dava La possibilità Di un'esplorazione Davvero 3D Mentre su Tekken 1 E 2 C'erano Le prese Le schiacciate Soltanto Davanti E dietro Quindi Si poteva placare Il personaggio Sia Davanti Che alle spalle Qui c'erano anche Quelle laterali Quindi un totale Di 4 mosse Perché c'era Davanti Dietro Destra Sinistra Questa cosa Chiaramente Andava A tutto vantaggio Del gameplay Perché comunque Dava La possibilità Proprio Di Di poter Spaziare Di avere Tanti modi Per Per poter In qualche maniera Placcare Il personaggio E Ricordo Un ricordo Molto Molto Bello E molto Preciso E E vivido Di interi pomeriggi Passati A Davvero A darsele Di santa ragione Io ero Molto bravo Al tempo Vinzi anche Diversi tornei Proprio di picchiaduro E In particolare Con Tekken Perché? Perché comunque Si trattava Di un Un gioco Quando ancora Non esisteva Il Multiplayer Online La possibilità Di sfidare Giocatori Dall'altra parte Del mondo In carne e ossa Il collegamento A internet Sì va bene Era tutto Molto Più Semplice Però Per quanto Fosse Tutto Molto Più Semplice Era Comunque Bellissimo Per il Tempo E Tekken Proprio come vi dicevo Già Con il suo Con la sua pubblicazione Nel Con il primo capitolo Aveva già rappresentato Una Una vera Così Una vera Rivoluzione Ma Con l'arrivo Del secondo capitolo Prima e del terzo Dopo E veramente Fece Fece Uno Uno scalpore Impressionante Per la grafica Per Proprio per I caratteri Di innovazione Che aveva Poi va bene Il numero Esorbitante Di personaggi Va bene Al netto del fatto Kuma Panda Ogre Devil Ogre Nina Anna Però Vedete per esempio Anche Nina E Anna Nonostante avessero Mosse simili Avevano comunque Mosse diverse E tutti i personaggi A loro volta Avevano Non tutti Ma quasi Mosse Proprietarie Mosse diverse Poi per esempio Un'altra Cosa curiosa Che io adoravo In Tekken 3 Era il Il personaggio Di Mokujin Che andava A Ad imitare Questo Manichino di legno Questo pezzo Di albero animato Che andava Ad imitare I vari personaggi Ma L'abilità Del giocatore Era Di capire Che cavolo Di personaggio Stesse imitando All'interno di Tekken Quale player Stesse imitando Perché Dovevi capirlo Dalle mosse Se era Yoshimitsu Se era Boo Non lo so King Se era Warang Lo capivi Da come Da come si muoveva Logicamente E' chiaro il fatto Che avevi Questa Questa manualità Insomma Questa Questa capacità Dopo Avere giocato Per tanto tempo Altrimenti Non avresti mai Potuto Nella maniera Più assoluta E' riconoscere Il personaggio Imitato In quel preciso Momento Da Mokujin Cioè Senza Senza vedere Proprio I pixel In pratica Del personaggio Senza vedere Il personaggio Proprio perché Ricordiamo che Mokujin Era sempre quello Cioè era Un pezzone Di albero Un pezzone Di legno Che è Animato Punto Niente di che Però Ripeto Era anche Bello Era anche Bello per questo Riusciva Davvero A spaziare Riusciva Davvero Comunque A Così A darti A darti Quel qualcosa A darti Quel Quel divertimento Quella possibilità Di staccare Dalla Dal quotidiano Tu Ti mettevi là Ti facevi il tuo picchiaduro Picchiavi Chiunque ti capitasse Chiunque ti capitasse A tiro Vabbè E poi c'era anche La La bellezza Del Così Dell'ospidare I giocatori Ma parliamo Al tempo Di Giocatori Veri Di player In carne e ossa Che tu avevi Accanto Ognuno Con il suo Bel joypad Rigorosamente Portato Da casa Rigorosamente Perché ognuno Si portava Il suo bel joystick Da casa E In qualche maniera Bele davate Di santa ragione Bele davate Di ogni Ed era bello Ed era bello Io Davvero Posso dire Che Tekken Insieme a pochi altri Gran Turismo Insomma Vabbè Sarà banale Però Sono stati proprio Tra Tra quelli Che io Ho adorato Di più Sono stati Tra i giochi Che io Ho proprio Amato Amato E adorato Tantissimo Perché Mi Veramente Mi davano Una Una soddisfazione Quasi viscerale Mi viene da dire Ecco Stavo Rivedendo Con La latenza Il L'RVM finale Di Yoshimitsu Dove si vede Anche Bosconovic Che vi ricordo Era un personaggio Sbloccabile Era impossibile Giocare con Bosconovic Perché Ricordo che Non stava in piedi Un delirio Un delirio totale Però Ripeto Era bello Era bello E Soprattutto Ti dava Ti dava Grandi Grandi Soddisfazioni Poi comunque Al di là di questo Riusciva Ad avere Una Una resa grafica Bella Importante Senza essere Troppo truculento Attenzione Perché non c'era Sangue Non Non c'era Non è che stiamo parlando Come Mortal Kombat Ecco C'erano Questi flash Quando tu Proprio Un colpo assestato Bene C'erano Questi flash Di luce Questi giochi di luce Peraltro bellissimi Fatti molto bene Che indicavano Il dolore Che indicavano Dolore puro Però Sicuramente Non c'era sangue Non c'era Niente di Niente di tutto questo Ho voluto condividere Con voi Insomma Questi Questi ricordi Sempre della mia Collezione Personale Di ricordi Di Playstation 1 Se volete Forse anche Per andare Un po' Controtendenza Però è bello Avere la possibilità Di ricordare E soprattutto Vedere Come siamo Cambiati Perché Nel frattempo Le cose Sono Sono cambiate Completamente Lo vediamo È cambiato Tutto È cambiato Il Il modo Anche Di Di fare I videogame Il modo Di giocare L'approccio La grafica Stiamo parlando Completamente Di Due cose Due mondi Proprio che Non si possono Neanche paragonare Qua siamo ancora Sulla PS1 Se parliamo Della grafica Attuale Dei giochi attuali C'è Uno magari Un nativo Digitale Di questi anni Potrebbe dire Guarda C'è il nonno Della console Però Per quegli anni Fece davvero Molto scalpore E fu davvero Una grande innovazione Quindi Io non vi nascondo Che qualche volta Quando ho tempo Rispolvero Queste vecchie glorie Perché Fa sempre piacere Comunque È un Un talento Che è bello Rispolverare Una volta Avuta Così La possibilità Di imparare E di imparare A memoria Tutte le Le mostre Non si dimenticano E tutto ciò È veramente Molto bello E allora Grazie Grazie Per essere stati Come sempre In mia compagnia Ovviamente Appuntamento Con le prossime puntate E con i prossimi ricordi Vi ricordo www.iljomba.it Seguitemi Seguitemi su Twitch Seguitemi su Twitter Andate a cercare Il Jomba E mettete su Segui Grazie E come sempre A tutti voi Per la cortesia Attenzione Dal vostro Jomba Un caldo saluto A tutti voi Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.